Con la circolare del Ministero riguardo l'apertura, l'annoso problema della rimozione e smaltimento della Posidonia Oceanica spiaggiata sulle coste del Cilento, la città di Agropoli si prepara a trovare una definitiva soluzione. Lavorando fin da subito, fanno sapere da Palazzo di Città, arriveremo nel mese di ottobre pronti a mettere in campo azioni mirate allo smaltimento. Abbiamo ricevuto nelle scorse settimane una nota dal Ministero che con una circolare dà una importante apertura sulla questione della Posidonia spiaggiata. La circolare dà la possibilità agli enti che hanno questo problema di avere altre possibilità di smaltimento diverse da quello dello smaltimento Tucur, come quella addirittura della possibilità di riportare la Posidonia a mare. Naturalmente tutto questo non è che si fa così Tucur, la normativa deve essere approfondita, noi li faremo nei prossimi giorni con dei convegni ad hoc per capire bene come affrontare il problema. L'alga va naturalmente trattata prima di essere rimessa a mare, va fatto un progetto collegato ad essa, ma noi siamo fiduciosi e speranzosi che cominciando a lavorare fin da subito, già nel prossimo inverno si potrà cominciare a lavorare in questo modo per poter finalmente arrivare alla prossima estate senza questo assillante problema. Oggi non mi sento di fare delle anticipazioni precise perché ripeto va un attimo approfondita la normativa, va approfondito il progetto di per sé, ma quando saremo pronti con grande entusiasmo lo annunceremo alla città. Per il momento ripeto l'apertura c'è stata da parte del Ministero, dobbiamo lavorarci ancora un po' su, lo faremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci auguriamo di essere pronti per il mese di settembre-ottobre per cominciare a lavorarci in maniera concreta, però questa apertura ci fa ben sperare per il futuro.